La cd youtube ben trovata da Marco Ligori è morta nelle scorse ore la moglie del grandissimo attore un grave lutto per tutto il mondo del cinema in questo video parleremo anche di una storia umana e prima di saperne di più vi ricordo che a 700 like pubblicherò immediatamente un nuovo video un fulminaccio al sereno affunestato il cielo del mondo del cinema e nella fattispecie nel mondo di Hollywood un grandissimo attore uno dei più grandi al mondo nelle scorse ore ha detto addio prematuramente alla sua dolce metà alla sua compagna di vita la moglie del grande attore ha perso la vita a soli 51 anni questo è il tragico fato toccato al grandissimo attore Forrest Whitaker di 62 anni Forrest ha fatto la storia nel cinema di Hollywood e ha preso parte ad una quantità davvero incredibile di film di successo in questo video ne citiamo soltanto tre iniziamo con senza esclusione di colpi con Jean-Claude Van Damme lo ricordiamo anche nel film con Jodie Foster Panic Room lo ricordiamo nel recente l'ultimo re di Scozia Forrest Whitaker è davvero un grosso nome del cinema mondiale purtroppo nelle scorse ore a Forrest è mancata la moglie stiamo parlando dell'attrice americana Cash Nash Whitaker che vediamo in foto era una bellissima donna Cash mancata a 51 anni ha perso la sua battaglia contro l'anoressia in questa sede cari amici di youtube oltre a fare le doverose condoglianze al grande Forrest Whitaker un attore che io personalmente apprezzo molto voglio parafrasare le parole della 25enne figlia di Cash e Forrest True Whitaker che scrive addio mamma ti amerò per sempre oltre sei stata la donna più bella del mondo grazie per averci insegnato ogni singola cosa ti seguirò nei miei sogni e ti amerò per sempre amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione scrivete nei commenti cosa ne pensate delle toccanti parole di True Whitaker la figlia di Forrest Whitaker che ha voluto ricordare la madre scomparsa nelle scorse ore amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video ciao a tutti